Dramma dell'Epifania a San Salvo. Una coppia di anziani novantenni è deceduta la scorsa notte nella loro abitazione di Vico Garibaldi, in pieno centro città. Si tratta di Angelo Bruno di 92 anni e di Onofrina Colameo di anni 87. La causa del decesso è quella di intossicazione da monossido di carbonio a seguito dell'incendio partito da una presa elettrica che poi si è allargato al divano letto dove dormiva la coppia. Un cortocircuito fatale ai due coniugi. A scoprire l'accaduto è stata questa mattina il figlio degli anziani che si era recato intorno alle 9.30 a trovarli. Quest'ultimo ha dato l'allarme allertando i soccorsi ma purtroppo era troppo tardi. I due novantenni sono stati colti dalla morte mentre dormivano. Hanno anche cercato di mettersi in salvo ma non ci sono riusciti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di vasto, i carabinieri, la polizia locale e i sanitari del 118. Questi ultimi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della coppia. Le salme sono state trasferite presso l'obitorio di Chieti per l'esame autoptico che si terrà nei prossimi giorni ad occuparsi dell'inchiesta il PM della procura di vasto Vincenzo Chirico.